I carabinieri della compagnia Piazza Verdi di Palermo hanno sequestrato a carico di gnoti una serra indoor di cannabis da quasi 250 esemplari trovata all'ultimo piano di una palazzina del quartiere Ballarò a Palermo. L'attenzione di militari impegnati in un servizio antidroga per le vie del centro storico era stata attirata da un edificio in via San Giosafat che pericolante e in totale stato di abbandono sembrava tuttavia utilizzato da qualcuno. I sospetti sono stati confermati grazie all'intervento dei vigili del fuoco che hanno aperto l'accesso nella palazzina e al nucleo cinofili dei carabinieri di Villa Grazia consentendo il ritrovamento di una piantagione di quasi 250 esemplari di cannabis indica dell'altezza media di circa un metro nonché di 5 sacchi di plastica contenente oltre 2 kg di marijuana già pronta per la vendita e lampade, tubi di aereazione e materiale vario per la coltivazione. Dopo lo smantellamento della serra e il sequestro delle piante è prevista la campionatura della sostanza per le rituali analisi a cura del competente laboratorio del Comando Provinciale di Palermo in attesa di disposizioni sulla distruzione da parte dell'autorità giudiziaria.